Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nello speciale 500 iscriviti. Oggi mi trovo alla riserva naturale di Capogallo, vicino Mondello. Ora vi farò vedere poi da vicino il mare e la sua bellezza. Ecco qua, anteprima della riserva di Capogallo. C'è un leggero venticello, acqua limpida. C'è un leggero venticello. 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 C'è un leggero venti et le venti. C'è un leggero venticello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.